... nel Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Presidenza del Consiglio e dell'Università. Tutte le informazioni le sale aderenti su www.cinematoday.it Ci sono cose per cui vale la pena aspettare, anche 80 anni. Mite 936, Antica Ricetta San Carlo. Ma che stai dicendo? Era qui, ti ha salutato? Concello. E in fuori al tratto si inseriscono anche gli stent, piccoli cilindri di rete metallica lasciati a sostendere il flusso sanguigno.